Nuovo look per l'ex sede del Genio Civile in via Nazario Sauro a Fano. Dopo i lavori di risanamento e di sistemazione del fabbricato, l'edificio è diventato uno spazio dedicato al turismo ed è pronto a riaprire al pubblico. Il punto IAT, informazioni e accoglienza turistica, verrà inaugurato sabato 30 luglio alle ore 19 e permetterà di arricchire il servizio offerto ai visitatori della città, se si considera che lo scorso anno è stata aperta la sede IAT in piazza 20 Settembre e che è garantita l'apertura stagionale dell'ufficio di Torrette. È un lavoro virtuoso, congiunto, frenti diversi. Abbiamo approfittato di uno degli ultimi finanziamenti della provincia di Peso Urbino, circa 75 mila euro, che hanno consentito il recupero di un manufatto significativo, abbandonato da molti anni, che dava un'immagine di degrado, non bella per la città turistica. Si trova in un punto nevralgico, appunto, tra le due spiagge, nella confluenza, appunto, del Porto, ma anche di Sassonia e del Lido, e quindi una struttura simbolicamente importante e molto visibile, che sarà aperta, grazie alla collaborazione anche con personale dell'Associazione Bergatori, con cui abbiamo stretto, appunto, una convenzione, anche nelle ore serali, come dovrebbero stare aperti tutti gli IAT. La nuova sede, che rimarrà aperta tutti i giorni fino al 15 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle ore 23, è frutto del lavoro congiunto fra l'assessorato alla cultura e turismo e quello ai lavori pubblici. Il Comune di Fano ha partecipato con una somma di 10 mila euro per gli arredi e la sistemazione interna. Questo caso diventa un punto propulsore di informazioni. Saranno date informazioni sui punti di accoglienza di Fano, quindi i nostri alberghi, i nostri camping, ma anche sulle manifestazioni che ci sono, di carattere ludico, ricreativo, culturale, di itinerari enogastronomici, tutto quello che mettiamo in campo per accogliere bene un turista e per dargli diverse prospettive e possibilità. Tutto è filato via liscio e devo dire che anche l'immagine complessiva ha restituito un edificio piacevole alla cittadinanza.